Buongiorno a tutti, piccola premessa, mi scuso per essere stata assente dal canale, è stato un periodo un po' particolare, però ringrazio coloro che comunque hanno seguito tutti i video, hanno lasciato dei commenti e si sono iscritti al canale. Proprio per voi ho deciso di continuare a inserire qualche video che vi potrà essere utile per il sostenimento della prova scritta. Ormai penso che quasi tutti hanno sostenuto la presa elettiva, quindi a questo punto mi sembra più utile dare qualche suggerimento per la prova scritta. Prima di passare all'analisi di qualche esempio di prova scritta vi voglio lasciare giusto qualche suggerimento per lo svolgimento della stessa. Innanzitutto, sicuramente l'avrete già fatto, informatevi sulle tracce degli anni precedenti, esercitatevi a scrivere su ogni possibile argomento, quindi partendo dalle tracce degli anni precedenti, ma anche su quelli che possono essere argomenti, secondo voi, importanti. A mio parere una cosa molto utile è quella di leggere la traccia e schematizzare subito i contenuti che vogliamo trattare, fare una scaletta, quindi dei concetti più importanti. Questo perché è vero che si perde qualche minuto, ma almeno non si rischia di tralasciare dei concetti importanti. Ovviamente, quindi cercare di rispettare i tempi, quindi orologio alla mano, damoci un tempo per ogni singola traccia, e non sbirciare dagli appunti, cioè quindi nel momento in cui svolgete la traccia, anche se non vi ricordate qualcosa, andate avanti. In questo modo vi rendete conto effettivamente di ciò che ricordate, ciò che invece dovete ripetere, e poi le cose che avete tralasciato potete tranquillamente correggerle in un secondo momento. Allora, una volta tracciate questi piccoli suggerimenti, passiamo all'analisi di alcuni esempi. La didattica speciale nella scuola secondaria di secondo grado. Come vedete, io l'ho schematizzata in cinque semplici punti. Che cos'è la didattica? Cos'è la didattica speciale? Studenti con disabilità, quindi il PEI, studenti con disturbi specifici di apprendimento, il DSA, e quindi il PDP, e studenti con bisogni educativi speciali, i BES, quindi la scelta di stilare il PDP. Allora, quindi, come lo posso sviluppare? Partendo da questi punti. Inizio a parlare di che cos'è la didattica, una scienza che studia i metodi e le strategie per l'insegnamento, si assume il compito di predisporre le migliori condizioni possibili per favorire l'apprendimento. Da qui mi aggancio subito alla didattica speciale, quindi la didattica speciale si rivolge agli studenti che in periodi particolari, quindi in periodi transitori o in modo permanente, presentano dei bisogni educativi speciali che possono essere dovuti a condizioni fisiche, psicologiche o sociali. Tra questi sono ricompresi gli studenti con disabilità certificata, per i quali è prevista l'assesura obbligatoria di un piano educativo individualizzato, il PEI, e anche l'assegnazione di un insegnante di sostegno. Oppure abbiamo gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e DSA, in questo caso possiamo fare anche il richiamo alla legge, quindi la legge c'è uno 70 del 2010 che li tutela e per questo tipo di studenti è previsto l'obbligo della definizione di un piano di didattica personalizzato, il PDP. Poi posso ancora richiamare gli altri BES, gli altri studenti con BES viene rimesso al consiglio di classe la scelta di stilare o meno un PDP. Posso concludere dicendo che la didattica speciale permette di superare le difficoltà di apprendimento di questi ragazzi, di sviluppare la loro autostima, la loro autonomia, e offre innumerevoli soluzioni ai bisogni specifici di questi studenti, favorisce la loro inclusione nella scuola e anche al contesto della classe. Altra possibile traccia è l'empatia, quindi come l'ho schematizzato in questo caso, solo tre punti. Che cos'è? Goleman e Gardner. Quindi l'empatia consiste nella capacità di entrare in sintonia con gli stati emotivi e i pensieri di un'altra persona, per poterne comprendere le motivazioni, i comportamenti, senza però dare un giudizio. Si tratta quindi di un'importante competenza che è fondamentale all'interno delle relazioni e Goleman le interisce proprio tra gli elementi che costituiscono l'intelligenza emotiva. Ecco, a questo punto possiamo parlare dell'intelligenza emotiva di Goleman, quindi che cos'è? È una componente intellettiva che consente di capire e regolare i propri stati emotivi per raggiungere un obiettivo. Ovviamente l'empatia costituisce un elemento fondamentale di questo tipo di intelligenza. Goleman sviluppa la sua teoria di intelligenza emotiva a partire da quella delle intelligenze multiple proposte da Gardner. Infatti, tra i nove tipi di intelligenza teorizzati, Goleman si interessa a quella interpersonale e a quella intrapersonale. Poi anche qui potete sviluppare questi argomenti, quindi l'intelligenza interpersonale che è rivolta verso le relazioni con gli altri e l'intrapersonale che invece è rivolta verso se stessi. Anche qui possiamo inserire una conclusione, possiamo dire che l'empatia è quindi necessaria per stare bene con se stessi e con gli altri ed è una caratteristica, un elemento fondamentale in un insegnante. Altro esempio di traccia, l'autonomia scolastica, come l'ho schematizzata. Ho inserito semplicemente che è stata introdotta dall'articolo 21 della legge 59 del 97, è stata attuata dal DPR 275 del 99, ho inserito gli articoli per me più importanti, il 4, il 5, il 6 e il 7, ho evidenziato il 7 perché da lì ci possiamo ricollegare alle reti di scuola e quindi parlare brevemente delle stesse. Infine potremmo dire che successivamente alla legge 1997 l'autonomia delle scuole è stata riconosciuta dal rango costituzionale in virtù della legge costituzionale 3 del 2001, recanto modifiche al titolo quinto della seconda parte della Costituzione. Facciamo così un riferimento all'articolo 117. Spero che questi piccoli spunti vi siano stati di aiuto e nella slide successiva vi inserirò altre tracce che potrete svolgere tranquillamente quando avrete tempo. Ciao a tutti! Grazie! 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 Grazie!